È sempre stato una persona in prima linea per l'ambientalismo contro la guerra, per la pace. In questa manifestazione nessuna bandiera politica per dire non alla guerra. Ce n'è una di bandiere che rappresenta un po' tutti, la bandiera arcobaleno. È la bandiera non solo della pace, è anche la bandiera dei diritti. Credo che l'arcobaleno sia il contrario, l'antagonista di quel colore, di quel mondo monocromatico dominato dai signori della guerra.